Ci sono tante novità che riguardano la vita della Wilt Sicilia, c'è stato l'evento della morte del Presidente Nazionale a cui voi avete dedicato un albero e un premio. Sì, abbiamo voluto dedicare a Campobello di Ricata all'interno del centro polivalente un albero intitolato da Antonio Perelli non solo perché era il Presidente della Wilt, quindi Unione Italiana Libero Teatro Nazionale e quindi è dedicato la sua vita al teatro amatoriale, quindi a tutti noi ma soprattutto perché possa essere da esempio per chi verrà dopo, perché veramente bisogna lasciare una traccia di tutto quello che noi stiamo facendo perché chi arriva dopo potrà capire che nulla viene dimenticato, soprattutto le cose buone che si fanno nel territorio e per il territorio. Antonio Perelli di cose buone ne ha fatte, ha fatto crescere anche questa Wilt che in Sicilia, la Sicilia è anche un fiore all'occhiello della Wilt Nazionale oltre all'albero ci sarà un premio dedicato proprio all'ex Presidente. Sì, abbiamo voluto istituire questo premio che è il premio della critica che noi vogliamo omaggiare a tutti gli organizzatori, tutti i festival che saranno organizzati in Sicilia e che vorranno istituire un premio per la critica, quindi è un premio offerto dalla Wilt Sicilia e verrà consegnato direttamente da me o da chi mi rappresenterà direttamente alla serata finale dei vari festival. Ecco, Campobello di Riccata l'anno prossimo ospiterà la rassegna nazionale della Wilt, un traguardo sicuramente ambito, qualcosa di eccezionale per chi fa teatro in questa città, è un evento storico? È qualcosa di eccezionale per la Sicilia perché in 40 anni di vita della Wilt nazionale non si era mai fatto il festival nazionale in Sicilia, a maggior ragione a Campobello di Riccata, un paese di 8 mila abitanti, insomma nessuno avrebbe mai potuto pensare qualcosa del genere, però grazie al lavoro che abbiamo fatto, grazie al coinvolgimento di tutte le compagnie affiliate Wilt che sono nell'arco di un anno, sono raddoppiate, grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale che ha dato la propria disponibilità nel offrire la location che è la valle della Divina Commedia, insomma grazie all'aiuto degli sponsor, un po' di tutti, abbiamo presentato un progetto molto valido e quindi poi la Wilt nazionale ha scelto proprio Campobello di Riccata per partire dalla Sicilia, quindi dal profondo sud, con il teatro amatoriale e quello di qualità naturalmente. Si è conclusa da poco quella che è stata la rassegna che ha visto ancora una volta la valle delle pietre dipinte protagoniste, sono state diverse compagnie che si sono esibite e c'è stato anche un vincitore? Certamente, c'è stata una selezione di 22 compagnie, su queste 22 ne sono state selezionate 9, queste 9 si sono incontrate sportivamente nella valle della Divina Commedia durante tutto il mese di giugno e luglio, abbiamo concluso il 2 agosto con una bellissima serata dove la giuria popolare ha decretato lo spettacolo vincitore, che si chiama il titolo Sorelle Matamè, la compagnia Il Dilemma Delicata per la regia di Angelo Biondi, quindi hanno vinto sia il premio come migliore spettacolo decretato dalla giuria popolare, quindi dal nostro pubblico, sia come miglior spettacolo decretato dalla giuria tecnica. Come secondo classificato, perché cito il secondo? Perché i primi due che si classificano vanno in finale per il nazionale e si è classificata invece la compagnia Trinaura di Siracusa con l'opera Donne amare. Il terzo classificato, quindi in caso di rinuncia di uno dei due, è il piccolo teatro stabile sommatinese di Sommatino con la cena dei cretini. Naturalmente sono stati assegnati poi gli altri premi, migliore regia, miglior attore protagonista, scenografie, musica, eccetera.